Questo è l'ultimo video che vi mando con il lavoro in corso. Il prossimo video sarà quello della clinica ultimata. Siamo entrati in un momento molto delicato, molto importante, che è quello dell'inolum ospedaliero antibatterico che viene messo su tutte le pareti della clinica e per terra e vi volevo mostrare quello che è stato fatto e che stiamo facendo in questi giorni. Siamo in una delle ali delle degenze, questa è la zona iniziale e in ognuno di questi slarghi ci sarà un grosso lavandino in acciaio inox dove verranno lavate le ciotole e le cose degli animali. Qui si entra nel corridoio e vi ricordo che ci sono cinque corridoi come questo e ci sono le stanze per le degenze dei cani che sono in terapia o che sono malati o che sono stati sterilizzati. Ogni stanza, esattamente come il corridoio, ha una superficie sulle pareti ricoperta da questo materiale che è un vinile speciale e per terra poi ne metteremo un altro strato per permettere una pulizia assolutamente impeccabile e un'igiene eccellente. Una volta terminato questo lavoro che durerà circa due settimane metteremo i sanitari, ci saranno dei lavori in esterno da finire ma potremmo dire che la clinica è completata. Ci vediamo al prossimo video e speriamo che ci diate una mano perché mancano veramente pochissimi soldini per arrivare alla fine.